Proseguendo nell'esame delle fonti del diritto, dobbiamo ora vedere, sempre nelle parti essenziali, le disposizioni degli articoli, da 2 a 16 di queste disposizioni sulla legge in generale. Abbiamo visto nell'esame dell'articolo 1 le singole fonti del diritto che sono indicate come le leggi, i regolamenti e gli usi, ma questa indicazione prevista nell'articolo 1 ed elaborata nel 1942 è incompleta. L'esame che svolgeremo oggi è un po' difficile perché bisogna intrecciare assieme queste disposizioni contenute nelle disposizioni sulla legge in generale, alcune delle quali sono vetuste, non perché siano passati dei secoli dal 1942 ad oggi, ma perché vi sono state una serie di modificazioni. E quindi bisogna avere la pazienza di tenere assieme queste regole antiche che in parte contraddicono alle regole vigenti, altre invece di queste regole antiche che combasciano, per così dire, un po' a fatica con le regole precedenti. Dovendo spiegare questa apparente contraddizione di una parte così importante delle disposizioni sulla legge in generale, potremmo paragonare queste disposizioni sulla legge in generale agli strati geologici, che talvolta si vedono nelle montagne con degli strati che si sono succeduti nel tempo. E la stessa cosa, con tutte le ovvie diversità, avviene nell'ambito delle leggi, dove vi sono delle leggi che si stratificano, ci sovrappongono l'una all'altra, in alcuni casi abrogano, eliminano la legge precedente, ma in altri casi invece convivono, sia pure a fatica, con le leggi vigenti. Ciò vale, per esempio, per l'esame dell'articolo 2 delle disposizioni sulla legge in generale, che stabilisce ancora che la formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del governo, aventi forza di legge, sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Questa regola aveva un particolare significato nel 1942, ma deve essere ora armonizzata con le nuove disposizioni costituzionali e ordinarie. Questa espressione di carattere costituzionale, che non trova corrispondenza oggi nelle nostre leggi, significa che l'emanazione degli atti del governo e della formazione delle leggi, in particolare all'aspetto della formazione e della emanazione delle leggi e degli atti e venti forza di legge, doveva avere un rilievo importante di carattere costituzionale. Quindi questa frase di carattere costituzionale non fa riferimento, non faceva riferimento ad una costituzione che non c'era, c'era allora lo Statuto Albertino, ma bensì faceva riferimento a quelle strutture del sistema normativo di allora, che è diverso molto da quello attuale. Tant'è vero che per quanto riguarda le leggi di allora, siamo nel 1942, c'era stata questa rilevante e grave modificazione con la creazione del Gran Consiglio del Fascismo. Tutto questo è stato travolto poi con la caduta dell'ordinamento fascista nel 1943. Allora, questo articolo 2 delle disposizioni sulla legge in generale è in armonia con le nuove norme costituzionali? Prevede delle diversità? Si risponde sì. Sono diversità incompatibili? Si risponde no, perché sia pure la fatica, queste norme si possono far collegare per esempio con l'articolo 70 della Costituzione e anche con gli articoli 117 per quanto riguarda le leggi regionali e anche poi vedremo per quanto riguarda i regolamenti con la legge 400 del 1988. Quindi la norma dell'articolo 2 è come un vestito vecchio, però ha ancora una sua particolare parziale validità, anche se è ripetitiva di quanto oggi è stabilito dalle più recenti norme costituzionali e della legge 400 del 1988. Mi rendo conto che l'esame che stiamo svolgendo è complesso e oltre all'articolo 2 delle disposizioni sulla legge in generale di cui sono state indicate le difficoltà vediamo anche un'altra parte dell'articolo 3 che si fa riferimento al potere regolamentare del governo dove anche qua si afferma che è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Anche questa norma deve essere inquadrata nel tempo ed è stata emanata seguendo l'ampia prassi legislativa dell'ordinamento fascista che aveva iniziato a stabilire dei regolamenti che incidevano spesso su disposizioni delle leggi. Quindi questa norma dell'articolo 3 delle disposizioni sulla legge in generale trova un collegamento con una legge grave e importante per le storie del nostro paese, cioè la legge del 1926 numero 100 sulle facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. Ma oggi questo potere regolamentare tende ad ampliarsi, ne abbiamo parlato e ne parleremo ancora, ma adesso questo potere regolamentare deve essere collegato con le norme costituzionali di adesso ed è previsto che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti e abbiamo poi nell'articolo 17 della legge 400 sono previsti i regolamenti di esecuzione e anche i regolamenti di integrazione e di attuazione. Quindi l'articolo 3 indica questo potere regolamentare ma è una norma ripeto del 1942 che deve adesso incastrarsi con le nuove norme costituzionali. Anche il secondo comma dell'articolo 3 che prevede che il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze in conformità alle leggi particolari, in realtà è una norma che deve essere adattata alle nuove norme che sono sorte, perché questo potere regolamentare è stato poi ribadito nella legge specialmente per le autorità comunali nel 1990 con la legge 142 e poi la successiva legge decreto legislativo 267 del 2000 e hanno stabilito che il potere regolamentare o meglio la potestà regolamentare non sta nelle leggi ma nei principi fissati dalle leggi, questo per dare uno spazio maggiore all'autonomia regolamentare specialmente degli enti locali. Quindi per concludere sull'articolo 3, questa disposizione che risale al 1942 non è in palese contrasto con la vigente Costituzione e con le successive leggi ma prevede una regola diversa, è proprio come uno strato geologico in cui si vede la successione nel tempo, questa norma non è stata modificata come tutte le altre norme sulle disposizioni sulla legge in generale e per tornare sempre ai problemi di questo adattamento delle disposizioni sulla legge in generale fermiamo l'attenzione sull'articolo 4 che prevede i limiti della disciplina regolamentare. Anche questo è una norma che fa vedere quelli che sono stati al tempo del regime fascista i poteri del governo che sia attraverso i decreti legge e i decreti legislativi domesticati ma specialmente attraverso il potere regolamentare il governo aveva stabilito tutta una serie di impostazioni importanti. Questi rapporti tra leggi e regolamenti hanno una disciplina che in parte è ancora vigente e che è nell'articolo 4. È stabilito che i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi quindi non è possibile che una norma regolamentare statale o anche di enti locali preveda delle disposizioni contrarie opposte a quanto è stabilito dalla legge. Ciò in base al principio di non contraddizione molto importante che vale anche per altri settori diversi dalla parte giuridica. Facciamo un esempio che ha poco a che fare col diritto ma tocca i problemi anche della nostra anima. Si pensi ad esempio al dialogo di Platone Il Fedone dove Socrate attraverso l'argomentazione dei contrari ha cercato di risolvere il grave problema della immortalità dell'anima. Poiché la morte deriva dalla vita ma la vita deriva dalla morte questo è un argomento su cui questo studioso antico Platone riferisce il pensiero di Socrate. Torniamo però dopo questa divagazione si fa per dire su problemi più grandi ai problemi giuridici. Quindi vi è però un problema da chiarire. Abbiamo detto i regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. Ci si domanda i regolamenti possono contenere norme diverse dalle disposizioni delle leggi? Si risponde se queste diversità sono compatibili ciò è possibile e si è anche osservato dal punto di vista meramente letterale che la norma prevede norme contrarie alle disposizioni ma non alle norme quale leggi. Questa seconda argomentazione è meno persuasiva. Il problema è proprio quello della diversità compatibile o meno. Un punto essenziale è questo. Ancora abbiamo visto che i regolamenti sono per la maggior parte regolamenti di esecuzione dove l'esecuzione indica l'armonia, la coerenza con le leggi. Ma ci si può domandare in un regolamento di attuazione e di esecuzione vi può essere una diversità anche piuttosto marcata? Si risponde questa diversità deve essere compatibile. Lo stesso vale per l'interrogativo più complesso. Un regolamento può prevedere una deroga ad una legge? Si risponde no. Se questa deroga comporta una contraddizione questa è vietata. Se la deroga comporta un adattamento, una compatibilità questa è consentita. Mentre invece qui c'è una risposta che è sicura per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 4 che stabilisce che i regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3, cioè quelli che stabiliscono i regolamenti locali, non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal governo. Questa è una disposizione che risente proprio dell'impronta verticistica del sistema dell'ordinamento fascista. È una disposizione chiaramente superata e che allo stato attuale è illegittima. Tutto questo lo si vede anche come controprova perché i regolamenti locali oggi sono disciplinati dall'articolo 7 del decreto legislativo 267, sono regolamenti autonomi e quindi i limiti dei regolamenti non sono nelle leggi ma nei principi delle leggi. Questo significa che i regolamenti locali hanno un loro spazio e non può un regolamento del governo sovrapporsi, limitare e infrangere un regolamento locale. L'articolo 4 è interessante da osservare, questo secondo comma, proprio per una ragione quasi geologica. Fa vedere il sistema gerarchico piramidale che era vigente nel passato. Questa regola è rimasta ancora come certi strati geologici nelle montagne. Un altro problema che dobbiamo accennare riguarda l'interpretazione dell'articolo 4 che abbiamo visto sui limiti del potere regolamentare del governo. Il primo comma dell'articolo 4 deve essere interpretato in modo estensivo o restrittivo o comunque valgono per questa disposizione anche i criteri dell'interpretazione delle leggi? La risposta è positiva perché il termine leggi di cui è l'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché dell'articolo 1 delle disposizioni sulla legge in generale deve essere inteso in senso ampio, nel senso di atto normativo e comprende anche le leggi regionali, le leggi statali, ma gli statuti e i regolamenti. Quindi i criteri dell'interpretazione delle leggi valgono anche per queste norme. Notiamo poi ancora sui regolamenti, ci ritorneremo, che tutto questo è stato disciplinato nella legge 400 del 1988, che tra le varie leggi che hanno attinenza ai problemi delle fonti è una delle leggi più longeve, probabilmente meglio costruita e l'impostazione originaria permane anche dopo le modificazioni che sono state intervenute sulla base della Costituzione e del testo unico degli enti locali del 1900 e quella che riguarda ancora la legge 142 e del 2000 col decreto legislativo 267. Un'ultima considerazione, con pazienza di chi ascolta e che si vede, è una domanda. Questi regolamenti statali o locali possono essere applicati per analogia? La risposta è negativa, perché i regolamenti in conseguenza dell'articolo 14, come le leggi, non possono essere applicate, le leggi eccezionali, non possono essere applicate oltre i casi e i tempi in essi considerati. Qui si fa un punto di collegamento tra i regolamenti e le leggi. Insomma, il regolamento, una specie di esecuzione o di integrazione e di attuazione, è legato ad una legge, quindi vive con quella legge, non si può applicare il regolamento ad un'altra legge. Questa è la ragione che si deriva in modo indiretto dall'articolo 14, ma che consente di dare la risposta negativa.